Musica Una buona giornata e ben ritrovati da Speciale News Web 24 In apertura stamane abbiamo la cultura La poetessa vicigliese Marta Maria Camporeale ha vinto ieri sera con la poesia in fondo al Natale Il primo premio nella sezione poesia al premio Bardicchia che si è svolto ieri sera a Mesania I dettagli li avrete nel corso del mattinato con un ampio articolo sul nostro sito di Speciale News Web 24 E naturalmente tutti i particolari della serata di ieri Fa anche ricordato che Marta Maria Camporeale, autrice del libro L'Ora Blu Che ha riscosso un grande successo Reduce da una serie di prevenzioni importanti non soltanto a Mesania ma anche in altre parti d'Italia Un riconoscimento importante visto che proprio il prossimo 5 maggio ricorre il primo anniversario appunto dell'uscita del suo libro L'Ora Blu Rimaniamo in ambito culturale perché domani sera come potete vedere anche dal libro che vi sto mostrando Presso Bibios, la bottega della cultura di Ciriniana e Foggiano Ci sarà la presentazione del libro della scrittrice e poetessa Salentina Giovanna Politi dal titolo Io sono l'amore Un libro intenso e commovente in cui si parla del sentimento più bello del mondo L'ho visto dagli occhi, anzi più che dagli occhi da una non vedente che racconta sensazioni, emozioni, tradimenti Il tutto con un'ottica riguardante il proprio l'amore che va anche verso un percorso ed un viaggio intenso Che termina anche poi con la consapevolezza di essere compassionibili e di saper donare il sentimento più bello del mondo Un appuntamento che il nostro telegiornale seguirà nel corso del weekend proponendovi interviste esclusive E poi la stessa intervista con la scrittrice Giovanna Politi Provemente adesso le altre notizie di questa giornata Il presidente del Parlamento venezuelano Guaidó in Venezuela che ha assoluto i poteri di presidente all'interim Adesso di essere disposto a concedere un'amnistia a tutti coloro che siano disposti a mettersi dalla parte della Costituzione Compreso lo stesso dittatore venezuelano Maduro che intanto ha dato 72 ore di tempo ai diplomatici americani di lasciare la regione Intanto continuano le critiche ma anche il plauso per la decisione del presidente del Parlamento venezuelano Che è stato riconosciuto dagli stati uniti di gran parte dei paesi sudamericani Meno che ovviamente da Russia e Cina che dicono agli stessi states di non interferire in questioni di interna politica Adesso occupiamoci della vicenda legata all'area orto Ginolisa di Boggia Perché il comitato Volla Ginolisa ha espresso il suo rammarico per il silenzio dalla regione Puglia Per quanto riguarda questa situazione Di fronte a questa politica indifferente dicono non abbiamo più parole Ecco perché abbiamo deciso di attivare nelle prossime ore in interessanti iniziative Lo diciamo chiaramente invitando i neocandidati che prenderanno il posto di Landella A non invitarci in alcune occasioni dei propri comizi elettorali che saranno puntualmente rimandati all'emittente Le ulteriori azioni ci vedranno impegnati nella rete e non mancherà il tentativo estremo di interlocuire Comunque con i vertici istituzionali sembra che questi abbiano l'intenzione di aprire le proprie trattature E finna in chiusura la pagina sportiva perché ieri si è recuperata la sfida della quarta di ritorno del campionato di serie D Esattamente tra Basket Club Cerignola e Rutigliano si è giocato al tenso statico della città rutiglianese Il punteggio finale ha premiato i giallo-blu di Bozza con il punteggio di 76-65 Nonostante uno scatto d'orgoglio nell'ultimo quarto dei padroni di casa Che almeno per tre quarti sono stati letteralmente in balia dell'avversario Per quanto riguarda questo risultato consente al Basket Club Cerignola di avere la vetta della classifica per ora in solitario Domani sesta giornata di ritorno del campionato con la sfida interna contro Fasano Ed è tutto per questa prima edizione del nostro giornale che andiamo in onda in un clima di maltempo diffuso Anche di questo ne parleremo e vi terremo informati Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24 questa sera alle 19 Buon proseguimento di mattinata A più tardi Grazie a tutti